Irene Pivetti e le mascherine belle cari amici Irene Pivetti e le mascherine belle perché il coronavirus, il covid-19 chiude da una parte chiude gli affari da una parte ma fa aprire altri affari da qualche altra parte le mascherine belle, le mascherine belle cari amici le mascherine belle ah che bello il covid-19, il coronavirus adesso anche Irene Pivetti aveva fiutato l'atmosfera e voleva far del bene al popolo italiano Irene Pivetti perché era già stata presidente della Camera pensate un po' voi, presidente della Camera dei deputati nei tempi belli del tassato cari amici, Irene Pivetti cara, cara, cara Irene Pivetti che il covid-19, il coronavirus chiude le porte da una parte e le apre da un'altra con le mascherine belle, le mascherine belle ed ora povera Irene Pivetti che voleva fare del bene al popolo italiano perché lei una volta era stata presidente della Camera dei Deputati e voleva fare del bene al popolo italiano se l'ha messa a commerciare le mascherine io non lo so come si sono svolte le cose sa soltanto che la notizia l'ho letta sul pregiato quotidiano romano la Repubblica e così come la notizia l'ho letta io ve la metto come link nel riassunto di questo video così voi la potete leggere nella sua interessa interessa e fare le vostre personali considerazioni come le sto facendo io Serafino Massoni che sono autore di questa opera storico-mitologica che vi spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato ed è proprio in patriarcato che si fanno gli affari capito? tu dici che fai del bene al popolo e fai i tuoi affari fai i tuoi affari gli affari si fanno facendo del bene al popolo come voleva fare Irene Pivetti ma i magistrati i magistrati dicono che ci sono delle cose che non quadrano non quadrano e io cosa volete che vi dica? io ipotesi non fingo io riporto qua le notizie al momento attuale Irene Pivetti che è stata presidente della Camera dei Deputati in momenti fortunati e adesso Irene Pivetti si trova indagata lei dice che lei dice che ha le mani pulite lei dice che ha le mani pulite vedremo come andranno a finire le rose io so soltanto che la questione delle mascherine è diventato un business un business un potentissimo business cari amici un potentissimo business le mascherine le mascherine belle cari amici le mascherine belle e guai a chi non se ne mette le mascherine guai 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 capito? guai guai ah Irene Pivetti Irene Pivetti chissà come andranno a finire le rose dobbiamo seguirli se tutti seguire questa tua vicenda Irene Pivetti perché tu nei tempi belli di una volta sei stata presidente della camera dei deputati sei una donna molto potente molto potente forse c'è gente che c'è invidia nei tuoi confronti capito? perché l'invidia è una brutta bestia è una bestia patriarcale l'invidia Irene Pivetti io la voglio seguire la tua vicenda Irene Pivetti perché tu sei una donna molto potente e c'è sempre tanta invidia nel confronto delle donne potenti capito? Irene Pivetti mi raccomando sai in questo momento di indagini procuratela subito una coppia di questa opera storico-mitologica che potrà consolarti tanto Irene Pivetti a te Irene Pivetti a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti